Il campione di occhi su pista e neoallenatore della nazionale italiana Alessandro Bertolucci è stato ricevuto in municipio a Massarosa dove il sindaco Alberto Coluccini e una delegazione dell'amministrazione comunale formata dall'assessore allo sport Franco Simonini e dal consigliere delegato Giovanni Brocchini gli ha consegnato una pergamena ed augurato buona fortuna per l'impegno degli europei quest'estate in Portogallo. Bertolucci sportivo di livello internazionale più volte campione d'Italia e anche campione del mondo è infatti da 25 anni cittadino di Massarosa abitando nella frazione di Piano di Conca. Io lì a Piano di Conca c'è un posto che è lì in mezzo agli olivi che mi fa rilassare sempre nel momento che ci sono delle competizioni importanti quindi sicuramente quest'estate tra uno stage e l'altro della nazionale ne farò ne farò uso. Ringrazio l'amministrazione per questo riconoscimento mi fa un enorme piacere perché comunque ho raggiunto una cosa importantissima essere allenatore della nazionale insomma è un orgoglio per me e credo che sia un orgoglio anche per il comune di Massarosa. Abbiamo voluto come amministrazione fare migliori auguri a lui per la nuova avventura che peraltro vedrà come primo obiettivo i prossimi campionati europei in Portogallo. Lo aspettiamo a Massarosa vittorino.